Hit me with the horse! Let's go! Hit me with the fire! Fuoco! Si sono divisi! Arrivano dai quadri di gallerie! Sì, è di una grazia! Guardia neutralizzata! Sicarico! Attenzione! Forza, avanzare! Sì! Altri guardie in arrivo dalla carneria di sinistra! Dannazione! Uomo a terra! Via libera, ma i rinforzi non tarderanno ad arrivare! Sono d'accordo, restiamo in guardia! Devo ricaricare! Uomo a terra! Uomo a terra! Diavolo! All'interno! Bersaglio eliminato! Attenzione! Era l'unico! Anche a rinforzare un'attività! Basta! Wade Chapel è di qua! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andate via! Tutti! Ora! Dobbiamo andarcene. È questione di tempo prima che le autorità irrompano Whitechapel, arrestando ogni uomo e donna. Raccogli quel che puoi e vai via. Ho una questione da risolvere a palazzo. Sei uscito di senno. Il palazzo è l'ultimo posto in cui dovresti andare. Devo portare Nicola fuori da lì. È il minimo per lui. Alastair ti conosce. Si aspetta che tu vada lì. Lo so. Allora andremo insieme. No. È una battaglia che devo concludere da solo. Se vivrò per vedere l'alba, ti ritroverò. Come vuoi, cavaliere. Non lo sai? Non sono più un cavaliere. Non sei un cavaliere, monsieur. Ma sei un doppio giochista o un patriota? Cosa volete che sia, marchese? Sono certo tu abbia delle buone ragioni. Dopo due rivoluzioni, Lafayette sa che c'è del marcio in ogni fazione. Non lo dimenticherò, marchese. Me lo auguro davvero, monsieur. Ma se ti opponessi alla causa della libertà, troverai in Lafayette il tuo più acerrimo nemico. Adio, monsieur. Arrivederci. A presto. Arrivederci, amico. Grazie. 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 Grazie a tutti